Oggi Breton, che è il commissario per il mercato interno, parla, anticipa sulla stampa il piano per fare a meno del metano russo, anche perché, mandatemi un po' questa fotografia, guardate, queste sono due bollette del gas gennaio 2021, un anno fa, gennaio 2022, praticamente raddoppiato con il prezzo della materia prima che sostanzialmente è aumentato. Però mi perdoni, io credo che il problema di queste bollette sia il fatto che l'Italia o l'Europa abbia creduto ingenuamente che Putin non avrebbe toccato il gas. Questo è un altro errore di base. Mi faccia sentire Veseghini, presidente di Arera, buongiorno. Questo è una follia che abbiamo. Lo vede che noi entriamo, Paganina, adesso non si preoccupi, adesso torniamo anche da lei. Che ne dice? C'è stato un errore di sottovalutazione oppure, come dire, questi aumenti stanno un po' alle dipendenze, cioè dipendono dal contesto, insomma, sì, forse dalle scelte che sono state fatte in passato, vale a dire non rendersi autonomi, non creare un'indipendenza energetica. Il tema dell'indipendenza energetica dell'Europa, dell'Italia è un tema di lungo corso. I problemi che oggi affrontiamo e che ormai da un anno di fatto stiamo vivendo, anche se sono esplosi naturalmente con molta più violenza negli ultimi settimane, ormai nell'ultimo mese, sono in realtà legati a diversi fattori. Paghiamo, nel manifestarsi di questi fattori, alcune scelte che nel passato ci hanno però dato dei vantaggi. Il trasferimento di molti asset di lungo termine, che caratterizzavano i contratti stabili che avevamo con altri fornitori, ha un meccanismo più liquido, ha un meccanismo più legato alle trattative di breve periodo, si sono accompagnate a vantaggi economici nel passato molto significativi. Adesso si scoperti troppo, forse è stata la scelta non corretta strategica, non è una consolazione, è una scelta che l'Europa ha fatto complessivamente. Ora, lavorare rapidamente per cercare di ripristinare la diversificazione delle fonti è naturalmente... E' quello meno svegli, facciamo un po' di trailer, siccome continuiamo dopo e parliamo proprio di questo, di come in questo momento le famiglie italiane si debbono confrontare quotidianamente con quello che succede molto lontano dalle loro case, andiamo a TG Parlamento. Professor Stisci, io la saluto, grazie per essere stato con noi.